No, sono curiosa di conoscere quello che ha detto che mi parte sempre la giubulare. Mi sembra lui con la maglietta rossa forse. Parla di te Peppe. Di me devo parlare. No, non tu parli. No, lei sta parlando di te. È stato tu che mi hai detto che sono quella che si arrabbia subito. È perché vedendo dentro ai vidi che ti arrabbia enormemente con gli altri. Quando ti vedo in tv. Perché io in tv tutti i giorni mi arrabbio. Ti arrabbi facilmente. Quando ho visto parecchie... Quali? Pure adesso. Mi sto arrabbiando. Sì. No. Ma no, ma no. Quando la conosci capisci... Ti tengo vicina. Vediamo un pochettino, mi posso rimbiangere di quello che ha detto. Non rimbiangere, non rimbiangere. Vai nella vita, non si rimbiange mai. Però l'unica che non si arrabbia. Sono un po' inizio. L'unica che non si arrabbia è lei. Ci si che non si arrabbia. Chi?